L'abitudine dei gesti, la pillola e il caffè è inutile, non riesco a non pensare a te. Devo inventarmi un'alternativa, qualcosa che produca energia positiva, ma dove posso guardarmi dentro, nel mio vivere stanco? E allora corro, veloce a perditiato, sono dentro il posto, un posto incantato. Suo notiziale, dove l'amore esiste, non senti, non respiri, è un odore che persiste.